Ciao amici, oggi voglio parlare della dieta dell'avena, un cereale facilmente digeribile, utile per dimagrire, efficace contro il gonfiore addominale e la ritenzione dei liquidi. Ho letto che l'avena è uno dei cereali più antichi, esatto, ci sono tracce del suo consumo fin dal 4000 a.C. L'avena aiuta a dimagrire dando un senso di sazietà, incredibile vero? Infatti non crea picchi glicemici perché i suoi carboidrati sono digeriti lentamente e rilasciano energia a lungo termine. Si consuma in chicchi, fiocchi, farina o in forma di latte vegetale, adatta per chi ha dieta, per gli intolleranti al glutine e al nickel. Ricca di fibre è alleata della salute del colon, soprattutto per chi soffre di colon irritabile perché limita le infiammazioni anche croniche. Quindi sgonfia la pancia e permette di perdere chili in poco tempo. Le proteine rendono sazi e le fibre favoriscono la motilità intestinale. Oltretutto si dimagrisce senza effetto yo-yo. E perché non è così diffusa il giorno d'oggi? Troppo sana, troppo sana! Ecco come integrarla nella vita di tutti i giorni. Avena a colazione. Si può bere il latte d'avena con i fiocchi di avena tipo porridge o contenuti nel muesli da consumarsi con frutta secca, nocciole, mandorle e frutta fresca o essiccata come prugne, uvetta, fichi e albicocche. Una colazione così, credetemi, vi porta fino a pranzo senza desideri di spuntini carboidratosi o spezza fame vari. Avena a pranzo. Buoni i burger e le crocchette d'avena o la farina per panature sfiziose o per fare il pane in casa. Rende bene anche nei dolci, per esempio il plum cake, i biscotti o le crostate ricche di gusto e super light. Avena a cena. I chicchi si possono bollire e condire con verdure cotte e legumi o usare per addensare minestre calde, zuppe e vellutate. L'avena è un cereale fantastico che combatte ansia e depressione mentre dona una forma diversa al corpo. L'avena è eccellente nell'alimentazione infantile e per gli anziani. Per vedere tanti altri video sui migliori prodotti naturali basta iscriversi al canale, è facile con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Mangia consapevole e vivi meglio. Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri e ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao!